Buonasera amici, eccoci qua finalmente per un aggiornamento sui casi di cronaca che a me piacciono tanto perché li seguo e li condivido con voi. Questa sera è l'aggiornamento sul famoso caso di Gianna del Gaudio, ricordate la professoressa 63enne che venne uccisa il 27 agosto 2016 in quella villetta a Seriate. Per chi non avesse seguito il caso è sotto inchiesta il marito Antonio Tizzani che si è sempre dichiarato innocente. Ora sono passate molti mesi, anzi è passato ovviamente un anno e mezzo, le indagini finalmente si sono concluse, dopo parecchi aggiornamenti eccetera eccetera si sono concluse. Ora cosa succede? Che molto probabilmente Antonio Tizzani, il marito, verrà rinviato a giudizio in quanto è l'unico indagato. E secondo me, oltre a essere indagato, secondo me è l'unico possibile colpevole di questo orrendo delitto. Un delitto che vede Gianna del Gaudio uccisa con un solo fendente di lama al collo che le recise la giugolare e quindi morì dissanguata in poco tempo. Ora perché le indagini sono andate avanti un anno e mezzo? Perché a volte il destino ci mette lo zambino, nel senso che quei Santone Tizzani, che io insomma ho sempre fortemente sospettato, è stato aiutato dalla fortuna sia perché avendo fatto secondo me dei tragitti per garage bari, quindi non è stato immostalato dalle telecamere, e sia perché in questo anno e mezzo ci sono stati dei delitti più o meno con modalità simili, come quello di Daniele Aruveri, una professionista che ci ha ucciso, pure lei, con un cortello, con un colpo al collo. Insomma, si è un po' pensato che potesse esistere un serial killer, ma ovviamente è un'ipotesi del tutto astratta perché poi questi due o tre casi che teoricamente potrebbero essere correlati non lo sono perché non c'è nessun tipo di relazione se non del tutto generica. Ora perché Antonio Tizzani è stato inviato a giudizio? Perché egli si è contraddetto molto, non ha saputo dire le modalità, che cosa ha fatto, è stato intervistato più volte, diceva no io stavo fuori al giardino, poi sono entrato, ho visto questa figura scura e nera che frugava nella borsa di mia moglie e poi quando mi ha visto se ne è scappato. Un'altra volta dice no, no, non frugava nella borsa di mia moglie, ma io sono entrato e ho visto quest'ombra che scappava. Quindi all'improvviso non c'è più il ladro che fruga nella borsa. Poi immaginate la stupidata che è un ladro che uccide in maniera così cruente e poi si mette a sovistare nella borsa poi. Non sa descrivere questa fantomatica persona, lo chiama l'uomo incappucciato, scuro, ma egli mutuò questo personaggio da una cosa che poi si è rivelata non vera, cioè dato che la nuora aveva nei mesi precedenti detto al marito che vi era un uomo incappucciato che la citofonava di sera e poi questa cosa non si è rivelata vera perché la nuora a un certo punto, messa alle strette, ha confessato che diceva così al marito giusto perché aveva paura di restare sola di sera e quindi diceva in questo modo per far sì che il marito tornasse presto a casa. Quando è stato sbugiardato, l'Antonio Rizzani aveva già detto questa cosa, quindi il fatto del fantomatico uomo incappucciato lui l'ha mutuato dalla nuora perché pensavo che fosse un personaggio vero. Poi, il fatto che il sacchetto trovato in quella famosa siepe, ci sta il cutter, la lama insanguinata con il sangue di Gianna Delgauglio con le impronte, con il DNA di Antonio Rizzani. Questa è una prova, una prova, direi una prova regina, perché è vero che hanno trovato anche un altro DNA che comunque può essere finito dentro per tanti motivi, in quanto vi erano anche resti di cibo che quella sera era stato consumato a casa Tizzani. Ma la cosa fondamentale è che era il DNA di Antonio e il sangue di Gianna Delgauglio. E guarda caso, questa busta era stata abbandonata a 500 metri di distanza in una siepe molto folta, laddove secondo me non sarebbe mai stata trovata, se non per una pura casualità. Infatti, la casualità fu che il proprietario di questa villa decise di potare le siepe. Facendo questa forte potatura, notò questo sacchetto, vide il contenuto e intervenne la polizia, la scientifica, eccetera, eccetera. Ora, è inconcepibile, è inammissibile che il fantomatico uomo incappucciato se ne scappi con la bustina con il resto della mozzarella, metta il cutter dentro e poi abbia, non so, la premura di fare 500 metri, di nascondere la busta in una siepe. Non avrebbe senso se si trattasse così di un extracomunitario che si introduce in una casa per fare una rapina. Invece, evidentemente, questa breve distanza si concilia con Antonio Tizzani. Sì, perché egli dì dell'allarme a 40 minuti dopo la mezzanotte, quando è stato accettato che avesse la mezzanotte se ne era andato il figlio che era stato a cena. Quindi, voglio dire, tutto sommato, in quei 40 minuti egli aveva avuto evidentemente un alterco che già covava, aveva fatto quello che aveva fatto e non aveva certamente potuto fare i chilometri per nascondere l'arma del delitto. Vedete, questa brava persona di Antonio Tizzani, tanto brava non è, perché chi lo conosce bene sa che era un marito padrone, uno che comandava e che considerava la moglie, come spesso ancora accade, una moglie oggetto. Quindi, evidentemente, Gianna del Gaudio, che aveva delle amicizie, magari aveva recentemente comprato degli oggettini, dei regalini per un collega, è stata accettata anche questa, quindi questa sorta di gelosia malata aveva certamente fatto il suo ruolo e per cui questo Antonio Tizzani, sicuramente in un impeto di rabbia da marito padrone, ha fatto, secondo me, questa cosa. Poi non ha saputo giustificare nemmeno il perché che egli avesse gli abiti e le scarpe immacolate, senza nemmeno un minimo DNA di sangue della moglie addosso. Non ha saputo spiegare niente. Dice, no, ma io non so fare la respirazione bocca a bocca, io poi lì che cosa dovevo fare, ho visto che stava a terra. Ma se veramente egli era vittima di questa situazione, ma ti viene spontaneo, voglio dire, soccosere quella che è tua moglie, quella che è la tua compagna di vita e vedere se ancora la puoi aiutare, vedere cosa si può fare. Invece no, invece no. Non ha fatto assolutamente nulla, né ha saputo giustificare. E quindi è indifendibile, è indifendibile perché poi addirittura la scientifica ha rilevato anche dei tentativi grossolani di cancellare impronte di sangue dalle mura, dal tavolo e da altri posti della cucina. Come se si potesse ipotizzare che questo fantomatico uomo incappucciato uccide il genere del Gaudio, poi si mette a rovestare, poi si preoccupa di prendere qualche, le precauzioni, di prendere una pezzuola e mettere lì a cancellare le impronte. Siamo nelle sedicole, siamo nella follia. Quindi quest'uomo, quest'uomo purtroppo, credo sia indifendibile e mi meraviglio, mi meraviglio che sia ancora a piede libero. Ovviamente la garanzia è per tutti. Queste sono le ultime novità. Secondo me sicuramente adesso vedrà rimpiato a giudizio e, a meno che non vi siano dei clamorosi sviluppi, in altro senso, credo che si sarebbe a un processo in cui egli veramente è fortemente indiziato e penso sia l'unico colpevole. Questa è la mia opinione per il momento. Vi ringrazio dell'attenzione e ci risentiamo al più presto. Ciao a tutti, grazie dell'attenzione.